Notevole afflusso di turisti in provincia di Sondrio, le buone condizioni meteo e il lungo ponte legato al carnevale ambrosiano hanno contribuito a rendere questo weekend uno dei più interessanti per chi ama la montagna. Le immagini girate venerdì sera sulla statale 38 parlando a sole, traffico intenso e incronamenti in direzione Sondrio. Code si sono formate in bassa valtellina dopo l'incidente accaduto verso le 19 lungo la tangenziale di Morbegno, uno scontro in galleria che fortunatamente si è risolto senza gravi conseguenze per gli occupanti dei veicoli coinvolti. A risentirne è stata soprattutto la viabilità con tempi di percorrenza più lunghi del previsto. Sul posto l'equipe medica, i carabinieri e la polizia stradale.